Epistola ai Romani, capitolo 10 E cercando di stabilirla loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge, l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice così. Non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne discendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo di inframorti. Ma che dice ella? La parola è presso di te nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per esser salvati. Difatti la scrittura dice, chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non vè distinzione fra Giudeo e Greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non vecchi predichi? E come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle? Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella, perché Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Dio. Ma io dico, non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confindi nel mondo. Ma io dico, Israele, non ha egli compreso? Mosè per primo dice, Io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione, contro una nazione senza intelletto. Provocherò il vostro sdegno. E Isaia si fa ardito e dice, Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice, Tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Grazie a tutti.